Ed eccoci, diciamo di riprendere il discorso che avevamo lievemente accennato ieri, proprio in 30 secondi di salto in avanti, lo riprendiamo un pochino più con calma all'interno di questa unità P3, che è quella dedicata principalmente all'implementazione delle decisioni, delle scelte, dei rami di scelta all'interno dei nostri programmi in Python. Parto subito dal fondo, essenzialmente, poi li pubblicheremo, però in anteprima, questa è una possibile soluzione del diagramma di flusso che era stato proposto come esercizio 3 la volta scorsa, nel laboratorio precedente, l'esercizio in cui bisognava verificare la sovrapposizione o meno di due intervalli di tempo. Quindi questa fa parte delle soluzioni che pubblicheremo, ma è solo per ricordarci che essenzialmente questi diagrammi di flusso avevamo già usato, oltre dei blocchi di assegnazione, quindi S uguale a Start1, S uguale a Start2, che avevamo preso direttamente dal testo dell'esercizio, poi ci sono delle operazioni di input dei dati, che nei diagrammi di flusso abbiamo già normalmente utilizzato, e poi c'erano questi rombi di scelta, che permettevano di far sì che il flusso di esecuzione del programma potesse andare da un lato oppure da un altro. Allora, oggi abbiamo gli elementi per tradurre in Python programmi di questo genere, quindi che usino sia le istruzioni di input, che abbiamo già visto ieri, sia le istruzioni di scelta, che invece cominceremo a vedere oggi. L'output per il momento lo sappiamo fare in forma semplice, con l'istruzione print, quindi non c'è nulla da aggiungere, anche se in realtà nella lezione di oggi vedremo, spero di riuscire a farci star tutto, ma se no è un argomento in più, di vedere come fare un output ordinato, incolonnato, ben formattato rispetto a ciò che fa l'outprint di valore automatico. Partiamo quindi però dall'obiettivo principale. Come si implementano, come si traducono in Python strutture di questo genere in cui ci sia una scelta da fare? E beh, ce lo dice il titolo di questa slide usando l'istruzione Python IF, che si chiama IF. L'istruzione IF ci serve a appunto costruire dei percorsi diversi di esecuzione in funzione di alcune decisioni che il programma deve prendere. Quindi se il programma, riprendendo un pochino il discorso che facevamo ieri, se il programma sapesse già a priori quali sono i dati con cui deve lavorare, allora il flusso di esecuzione sarebbe sempre lineare. Io so esattamente che cosa faccio perché conosco esattamente tutti i dati che ho in ingresso e quindi di sicuro so già quali operazioni farò. Ma se un programma si deve adattare a vari dati di ingresso forniti dagli utenti, e beh, allora a questo punto, in funzione del valore di questi dati, il programma si dovrà comportare in modo leggermente diverso. Un esempio che viene qua ripercorso nelle slide, ma noi facciamo quello del laboratorio, così ne abbiamo due, ma l'esempio che viene proposto nelle slide dice che in alcuni palazzi, soprattutto in America, dove sono un pochino più superstiziosi di noi, nei grattacieli spesso il tredicesimo piano non esiste, ma così come avrete visto in aereo la tredicesima fila non esiste, perché magari se qualcuno trova quel posto dice, ah no, è sfortunato, il tredici si porta a sfortuna, non voglio starci, e quindi le file oppure i piani passano direttamente dal dodici al quattordici, saltando il tredici. E quindi il ragionamento è che se un utente chiede di andare al piano quindicesimo, in realtà l'ascensore, pensiamo all'ascensore, deve in realtà portarmi al quattordicesimo, perché quando lui dice quindici in realtà sta saltando il tredicesimo che non esiste. Quindi in realtà i piani fisici ovviamente ci sono tutti, uno, due, tre, quattro, tre, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici. Semplicemente il piano fisico tredici si chiama quattordici, mentre il piano fisico dodici si chiama dodici. Quindi la relazione tra il piano fisico e il piano, diciamo così, del bottone dell'ascensore dipende dal fatto che il piano richiesto all'utente sia maggiore o minore di tredici. Se io se l'utente chiede di andare al piano cinque con l'ascensore, l'ascensore lo porterà al piano fisico cinque. Se l'utente chiede di andare al piano quindici, l'utente lo porterà al piano fisico quattordici. Quindi il piano fisico sarà uguale al piano richiesto oppure uguale al piano meno uno, a seconda che sia maggiore o minore. Quindi sono casi diversi che si possono verificare e sono scelte diverse che il programma deve fare. Tutto questo in Python si fa esattamente usando dei costrutti sintattici che prendono il nome di istruzione if o di cui fa parte poi un appendice che è l'istruzione else. Come si scrive? Relativamente molto semplice. Immaginiamo di avere un diagramma di flusso di questo genere, nel caso dell'ascensore, se il piano chiesto dall'utente è maggiore di tredici, se sì, allora il piano fisico a cui devo andare è uguale al piano richiesto meno uno. Se invece il piano richiesto dall'utente, falso, non è maggiore di tredici, quindi sarà minore o uguale, uguale non potrà esserlo perché sulla ascensore il pulsante 13 non c'è, quindi sarà minore. Allora in questo caso il piano fisico a cui devo andare è uguale al piano che è stato richiesto. Quindi se il valore di floro vale 5, allora il piano fisico è uguale a 5. Se invece il valore di floro è 15, il piano fisico sarà 15 meno uno, ossia 14. Ma questo è un semplice, diciamo così, diagramma di flusso. Come si traduce questo in Python? Si traduce con l'istruzione if. Quindi abbiamo un'istruzione if, seguita dalla condizione piano maggiore di tredici, che è la stessa condizione che avremo nel diagramma di flusso, e poi abbiamo delle istruzioni, una o più istruzioni da eseguire nel caso in cui questa condizione sia vera, e altre istruzioni da eseguire nel caso in cui questa condizione sia falsa. Come si scrivono? Dove si scrivono queste istruzioni? Semplicemente nelle righe successive, rientrate di una certa quantità. Di solito si usano due spazi oppure quattro spazi, ma molto più comodo con l'idea, semplicemente usare il tasto di tabulazione, il tab, che ti dà un rientro, diciamo così, costante, uniforme, lungo tutto il tuo programma. E quindi abbiamo alcune istruzioni che seguono, diciamo così, la riga in cui compare l'if, che sono quelle che vengono eseguite se la condizione è corretta. Altre istruzioni che invece vengono eseguite se la condizione è sbagliata, è falsa, e quindi queste sono precedute dalla parola chiave else. Adesso terremo dettagli nella sintassi, notiamo che abbiamo introdotto un simbolo di due punti alla fine della riga if e alla fine della riga else. Questa è una regola generale. In realtà ci sono dei casi in cui il ramo else non esiste, non serve, non c'è da far nulla nel caso in cui la condizione sia falsa, allora in questo caso semplicemente nella codice Python non ci sarà l'istruzione else col codice corrispondente. Quindi ci sarà solamente if, se è una condizione, fai una cosa, se no, non far nulla. Quindi ci sono le due e. Questa è la scheda generale che ci riassume le due forme dell'istruzione if, se condizione uno più istruzioni, se condizione istruzioni altrimenti altre istruzioni. Allora qui impariamo questo termine, condizione. Condizione è una condizione che può essere vera o falsa, che di solito sarà ottenuta attraverso ad esempio un confronto, tra due valori, due valori sono uguali, sono diversi, sono maggiori, sono minori, e chiaramente quando facciamo un confronto, questo confronto in funzione del valore istantaneo che ha questa variabile, flor, può essere vero o falso. Ok, questa non è una disequazione che devo risolvere. Devo dire, ok, flor adesso quanto vale? 7. Allora, questo 7 è maggiore di 13? Sì o no? Vero o falso? Quindi, molto spesso, la condizione che decide se andare da una parte o dall'altra sarà un'espressione che viene, diciamo, costruita con operatori di confronto. Gli operatori di confronto sono, beh, i più semplici sono uguale, il diverso, minore, minore uguale, maggiore, maggiore uguale. Scritti in questo modo. Quindi, l'operatore di uguale si scrive ripetendo due volte il simbolo di uguale. Attenzione a non confonderlo con l'operatore di assegnazione. Quindi, l'uguale che abbiamo usato finora, l'uguale singolo, serve per dare un valore a una variabile. Se io invece voglio confrontare due valori e farmi dire se è vero o non è vero che essi siano uguali, userò l'operatore di confronto, che invece si scrive in modo diverso, con un doppio uguale. Non confondiamocelo, per fortuna Python è un linguaggio nel quale se li scambio, se li uso male, mi dà un errore di sintassi. Mentre questo è un errore frequentissimo in linguaggi come C e Java, in cui uno si dimenticava e nel confronto metteva l'uguale singolo e sbagliava tutto. Ok, poi vedremo che in realtà queste condizioni possono anche essere più complesse, ovviamente, ma le otterremo sempre combinando confronti semplici in qualche modo. Ma alla fine la cosa importante è che queste condizioni siano qualcosa che possono essere a loro volta calcolate come vere oppure false. Alida, l'operatore punto esclamativo uguale sta per diverso. Il punto esclamativo mi ricorda il non. In alcuni linguaggi di programmazione il punto esclamativo sta per non. Non uguale, cioè diverso. Attenzione che l'ordine è importante. Punto esclamativo uguale, non uguale punto esclamativo. Rispondendo a Jacopo, sì, l'istruzione if, una singola istruzione if mi permette di distinguere solamente tra due casi. Se voglio distinguere tra più casi dovrò combinare tra di loro in cascata oppure in modo annidato, ma lo vediamo, più istruzioni if tra di loro. Ok, proviamo a... Vabbè, qui va avanti sul... Poi vediamo la sintassi definita, ma i dettagli sulla sintassi. Però proviamo subito, diciamo, a buttarci e a costruire questo. Ok? A costruire in Python questo diagramma di flusso. Il ramo else, giustamente come dicono, è... Come ti hanno già risposto, rappresenta il ramo nel quale contengo le istruzioni del no, del falso. Ok? Quindi vuol dire, se non è vero, allora, altrimenti, risolvi quelle altre... Esegui quelle altre istruzioni. Allora, proviamo a partire da questo esercizio qua, no? Quello degli appuntamenti. Allora, prendiamo il nostro PyCharm, crea un nuovo file, Python, chiamiamolo appuntamenti, e quindi questo qua è un esercizio in cui faremo la traduzione in Python dell'esercizio, qual era il 3, o il 4, non me lo ricordo, esercizio 3 del laboratorio 1, 0, 1. Quindi abbiamo il diagramma di flusso, abbiamo già pensato, già valutato questo esercizio e vediamo di tradurlo. Quindi questo qui siamo partiti già da un pseudogologico che ci hanno dato, ma potrebbe essere benissimo il nostro. Allora, iniziamo a leggere dei valori. Noi dobbiamo leggere start1, end1, start2, end2, quindi abbiamo start1 uguale input, e devo chiedere all'utente che cosa gli chiedo? L'orario di inizio del primo appuntamento. poi magari questo, poi end1 sarà, metto degli spazi, l'orario di fine del primo appuntamento, e poi analogamente start2, end2 sarà l'orario di inizio del secondo appuntamento e l'orario di fine del secondo appuntamento. Poi qua ci metto degli spazi semplicemente per avere le cose incolonnate, così viene un po' meglio. E questo è un inizio di traduzione di questo primo blocco, leggi i quattro dati, input di inizio e fine del primo e del secondo appuntamento. è giusto o non è giusto? È corretto? È completo? Beh, lo possiamo provare, lo possiamo provare eseguendo questo file, quindi l'orario di inizio del primo appuntamento sarà alle 9, dalle 9 alle 11, dalle 10 alle 12 ad esempio. E quindi il programma finisce perché non fa più nulla. Per rispondere a Noemi, nel testo di esercizio del laboratorio ti diceva, guarda, prova con questi valori per vedere se funziona, però non ti diceva che il programma doveva funzionare solo con quei valori, il programma deve funzionare con qualunque tipo di valori, ok? E quindi noi dobbiamo acquisire in input chiedendo all'utente i valori ogni volta che il programma parte. Poi se l'utente vuole provare quei valori che sono suggeriti nel testo, bene, ma molto probabilmente l'utente potrà anche voler usare il programma per altri tipi di valori. quindi ogni volta i dati il programma non li conosce, li deve chiedere all'utente. Giustamente in parallelo nella chat mi state dicendo, guarda che hai sbagliato perché hai letto i dati ma così come li hai letti sono sotto forma di stringa. Giustamente è una parte ancora incompleta perché io a questo punto start1 ed end1 sono due stringhe, start1 sarà la stringa di un carattere solo di lunghezza 1 che contiene il 9, end1 sarà una stringa di due caratteri che contiene 1, 1. A me interessa ovviamente il valore intero perché ci devo fare dell'aritmetica sopra, devo farci dei controlli, dei confronti. E quindi come abbiamo imparato a fare ieri, questo input la convertiamo in valore intero usando la funzione di conversione int. Funzione di conversione che sappiamo che prende una stringa e restituisce il valore, il numero corrispondente, ovviamente se la stringa è fatta bene, se contiene un numero e sappiamo che se in realtà la stringa non contiene un numero, abbiamo scritto ciao, abbiamo scritto qualche cos'altro, ovviamente il programma si bloccherà con un errore. Noi impareremo molto più tardi a gestire questo tipo di errori, perché richiede una gestione un pochino più complicata, ma per ora facciamo finta che l'utente inserisca sempre i dati corretti. Ok, a questo punto cosa ci dice? Abbiamo implementato in Python il primo blocco. Adesso il programma prevede di calcolare due valori, SE, che è l'inizio e la fine, SE, con queste regole. Allora, il primo blocco, che è questo qua, qui che ingrandiamo, focalizziamo, calcola S. Calcola S e dice che S è uguale a start 1 se è vera questa condizione, S sarà uguale a start 2 se invece questa condizione è falsa. Quindi, come lo traduciamo? Allora, dobbiamo identificare tre punti. La condizione, il codice da eseguire se la condizione è vera, il codice da eseguire se la condizione è falsa. Ok? Allora, la condizione, in questo caso ce l'abbiamo nel rombo, è evidente, start 1 maggiore di start 2. Quindi, se IF start 1 maggiore di start 2, due punti. Quindi, la condizione la scrivo sulla riga dell'istruzione IF e termino questa riga con un simbolo di due punti. Due punti vuol dire, guarda che dopo c'è qualcosa. Ok? Infatti, quando voi terminate una riga con due punti, quando battete l'invio sul PyCharm, automaticamente lui vi rientra. Vedete che il cursore non è alla prima colonna ma è quattro spazi più rientrato, mi indenta automaticamente la riga successiva. Così da dire, guarda che ciò che scrivi, nella riga 10 in avanti, è condizionato, è interno, è dipendente, è subordinato all'istruzione IF. Usate il termine che volete, è rientrato, poi daremo il nome, vedremo come si chiamano questi termini, ma per ora cerchiamo di capire il concetto. Allora, nel caso in cui start1 sia davvero maggiore di start2, io eseguirò queste istruzioni, e quali istruzioni devo eseguire? Beh, me lo dice il flowchart, nel caso in cui la condizione sia vera, esegui s uguale start1. E allora, qua, creo una nuova variabile che si chiama s, e le assegno lo stesso valore che aveva start1. E io qua potrei andare avanti a fare altre istruzioni, a scrivere altre cose. Ha uguale, non so, qui sto mettendo le stupidaggini, ma solo per dire, che fino a quando sono rientrato, incolonnato, indentato sotto queste istruzioni IF, tutte queste istruzioni fanno parte del ramo vero di questa scelta. In questo caso ne abbiamo una sola, quindi ci fermiamo qua, ma se ce ne fosse più di una non sarebbe un problema. Quando è che la IF capisce che il ramo vero è finito? Quando l'istruzione successiva non inizia più incolonnata, rientrata, ma ricomincia, diciamo così, alla prima colonna, incolonnata con la IF, e non più rientrata rispetto alla IF. Allora qui posso mettere la descrizione del ramo falso, cioè cosa devo fare invece se la condizione start1 maggiore di start2 non è vera, ma è falsa? E di nuovo andiamo a prendere il diagramma di flusso che ci dice che in questo caso devo mettere s uguale start2. E allora lo scrivo, s uguale start2. E anche qua questo ramo S andrebbe avanti per tante istruzioni fino a quando non decidiamo di rientrare di un carattere a sinistra. Quindi per chi è abituato ad altri linguaggi di programmazione, il blocco IF e il blocco S di solito sono delimitati da un paio di parentesi graffe. Aperta graffa, chiusa graffa. In Python non esiste, ma la delimitazione dei blocchi è data semplicemente dagli spazi. Allora cosa succede qua? Proviamo a vedere. Vediamo quanto vale S. Che cosa abbiamo fatto qua? Questa print ovviamente non fa parte del programma, ma la usiamo per verificare cosa stiamo facendo. Prendiamo l'abitudine, scrivo qualche riga e poi provo il programma, poi scrivo un altro po' di righe e poi provo il programma. Non fate mai l'errore di scrivere tutto il programma e poi dopo provarlo, perché altrimenti scoprirete troppi errori e non vi ci raccapezzerete più. Quindi andiamo per piccoli gradi e ogni volta che il programma cresce un pochettino lo proviamo per convincerci che stia funzionando correttamente. Allora, eseguiamo questo programma di nuovo, quindi diciamo 9, ops, non lì, ma qui, dalle 9 alle 11, dalle 10 alle 12. E qui mi stampa 10. Cosa vuol dire che mi ha stampato 10? Allora, start 1 era 9, start 2 era 10. E quindi il programma si è chiesto, start 1, 9, è maggiore di start 2, 10? No. Ovviamente 9 maggiore di 10 non è vero, è falso. E quindi l'esecuzione del programma non è andato ad eseguire la riga 10, ma invece è andato ad eseguire la riga 12. È andato ad eseguire la riga 12 e quindi ha messo dentro S il valore di start 2 che era 10. E alla fine abbiamo stampato questo 10. Se vogliamo lo possiamo rivedere passo passo, con il debugger, quindi anche qua vado in step, passo passo. E orario del primo appuntamento, 9. Scusate, devo mettere un breakpoint se non si ferma. Mettiamolo qua. Fatemelo ripartire. Stop. Vai passo passo. Ok, allora. Prima riga, orario di inizio 9. E mi fa vedere che start 1 vale 9. Passo successivo, orario per fine 11. E mi fa vedere che end 1 vale 11. Poi vado avanti ancora di un passo, mi chiede l'orario di inizio del secondo appuntamento, che sono le 10. E poi mi chiederà, nel passo successivo, l'orario di fine del secondo appuntamento, che sono le 12. E finalmente arrivo qua. All'if. E qui, a questo punto non è più generica questa istruzione, è specifica. Perché start 1 vale 9, lo sappiamo, perché lo abbiamo appena letto. Start 2 vale 10. Allora, quando abbiamo scritto il programma, non sapevamo il valore di queste variabili, ci siamo dovuti organizzare per prevedere tutti i casi possibili. Quando invece però il programma viene eseguito e arriva fino a quel punto, al posto delle variabili ci sono dei numeri. E quindi è facile dire se è vero o se è falso. Quindi in questo caso, questa condizione qui, start 1 maggiore di start 2, poiché 9 maggiore di 10 è falso, questa condizione verrà valutata con un valore falso. E quindi l'istruzione successiva, se io vado avanti, potrebbe essere la 10 o la 12. La 10, se il valore fosse vero, non è il nostro caso. La 12, se il valore fosse falso, è il nostro caso. E quindi se vado avanti, vedete che la riga 10 non si è fermato, l'ha saltata proprio, visto che questa if era falsa, è andato direttamente nell'else a eseguire cosa c'era dentro il blocco else. In questo caso la riga S è uguale a start 2. Non ancora fatta, quando premo avanti, questa riga viene eseguita. E poi passerò alla riga successiva che fa la print. E vedete che S ha preso il valore 10, come già avevamo intuito. Se io mettessi dei valori, e qui il programma è finito, se mettessi dei valori diversi, quindi ad esempio 9, sempre 11, ma l'altro inizia alle 8 e finisce alle 14, ho cambiato i valori, e quindi in questo caso start 1 vale 9, ma start 2 vale 8. Allora, in questo caso cosa ci aspettiamo? Che la condizione 9 maggiore di 8 sia una condizione vera. Se è una condizione vera, verrà eseguita l'istruzione che sta nel blocco if, e non verrà eseguita l'istruzione che sta nel blocco else. Quindi nel blocco vero sì, nel blocco falso no. Vediamo se è vero, vado avanti un passo per volta, ecco questa volta vedete che il programma si presta ad eseguire la linea 10, che è dentro il blocco if, perché? Ma perché la condizione era vera. E dopo che ho eseguito quest'istruzione, adesso quando cliccherò qua, vedrete che il programma non va più a eseguire l'istruzione 12, perché questa invece sarebbe l'alternativa, l'else, e invece lo eseguirebbe se la condizione fosse falsa, ma poiché la condizione è vera, non la esegue, e salta direttamente alla riga 14. Riga 14 nella quale in questo caso S vale 9. Notiamo che la riga 14 viene eseguita in entrambi i casi. Cioè sia che la condizione sia vera, sia che la condizione sia falsa, alla riga 14 ci siamo arrivati in entrambi i casi. Ma è giusto così perché questa print è fuori dalla if, viene dopo la if. Nel linguaggio grafico dei flowchart è come se la print fosse messa qua sotto, in questo punto. In questo punto si raggiunge sia che abbiamo preso la strada vera, sia che abbiamo preso la strada falsa, in entrambi i casi mi ricongiungo e da qui in avanti continuo con un unico flusso di esecuzione. Nei diagrammi di flusso lo vedo perché c'è il punto in cui i due flussi si ricongiungono, nel codice Python lo vedo perché a un certo punto il codice è meno rientrato, ritorna, diciamo così, alla colonna di partenza. Ok. Chiaro fin qua? A questo punto possiamo andare avanti e tradurre l'altra parte del programma che è esattamente uguale, semplicemente però va a confrontare end1 e end2 anziché start1 e start2. Quindi in questo caso, questa print possiamo bellirla dicendo magari per noi, per comodità nostra, s uguale s, così ce lo ricordiamo. Poi l'altra parte del programma si chiede se end1 è maggiore di end2, due punti, ricordiamo sempre i due punti, allora questo punto è uguale end1, altrimenti, quando io scrivo else, nel momento in cui premo i due punti, leader se ne accorge e me lo ritorna indietro automaticamente, me lo incolonna alla stessa, all'altezza dell'if, ovviamente. If e else sono due pezzi della stessa istruzione, anche se si scrivono su righe diverse. Poi batto l'invio, nell'altro caso è uguale end2. vediamo se l'ho scritto giusto, se è 1 maggiore di 2 è 1. Se è 1 minore di 2, ecco, vedi che l'ho già sbagliato, l'ho già sbagliato perché dovevo scrivere minore, quindi minore. E là. Quindi devo invertire la condizione. E a questo punto possiamo dire, print, ecco, se io facessi così, attenzione, come mi è venuto di fare, mettere questa print in questo punto qua, alla riga 21, in questo caso verrebbe fatta solamente nel caso in cui la condizione fosse falsa, perché è ancora indentata, rientrata sotto la parola chiave else. Se io voglio che venga eseguita in entrambi i casi, devo rientrarla a sinistra, devo, diciamo così, ridurre il livello di indentazione e incolonnarla sotto la if. Quindi, gli spazi sono importanti in Python, il tasto tab mi permette di rientrare uno o più volte, il tasto backspace mi permette di diminuire i rientri. Ok? Allora, mettere qui o mettere qui non è la stessa cosa. Tra l'altro ci sono degli errori, nel senso che se io lo provassi a mettere a metà strada, mi dice attenzione che qua non funziona, perché non è incolonnato né con questa né con questa. Fai dire che qua compare un simbolo rosso, che è un messaggio di errore, che poi se provate a farlo partire, vi dice, diciamo così, che l'indentazione è sbagliata. Noi lo vogliamo eseguire dopo, e quindi qua è a posto. E quindi siamo arrivati a questo punto qui. Possiamo di nuovo riprovare il nostro programmino. Lo eseguiamo questa volta normalmente senza debug. Vado in run e lo eseguo. Quindi 9, 11, 10, 12. E questo punto mi darà che s è uguale 10, che sarebbe start 2, e uguale 11, che sarebbe end 1. Andiamo avanti. Il diagramma di flusso ci dice, a certo punto confronta a questo punto s con e. Se s è più piccolo di e, allora gli appuntamenti si sovrappongono, altrimenti gli appuntamenti non si sovrappongono. E quindi abbiamo se s è minore di e, due punti, print, gli appuntamenti si sovrappongono, altrimenti, else, due punti, print, gli appuntamenti non si sovrappongono. e ho finito. Quindi riproviamo di nuovo l'esecuzione, orario, inizio 9, 11, 10, ops, ho sbagliato a scrivere, mi dà errore, ricomincio, 9, 11, 10, 12, questi ovviamente si sovrappongono, e quindi il programma mi dirà che gli appuntamenti si sovrappongono. Se io lo rieseguo, magari con due intervalli di tempo diversi, dalle 9 alle 11, ma l'altro va dalle 12 alle 15, mi dirà che gli appuntamenti non si sovrappongono. E quindi, cioè si comporta, in questi casi si comporta in modo corretto. Allora, due domande che ci sono in chat, Simone mi chiede, come fai a vedere il debug? Allora, per entrare in modalità debug, bisogna, innanzitutto, settare un breakpoint da qualche parte, almeno uno, altrimenti lui, stranamente, è un problema suo, non parte il debug, e quindi devi settare almeno un punto, tipicamente la prima istruzione che fa qualcosa di furbo, all'interno del programma. Non la prima prima, perché anche quella non la prende, è un problema suo. E poi, per eseguire il programma, puoi, ad esempio, il modo più semplice, è andare sul nome del programma, e qua sotto, nel menu, fai debug. Ok? Quindi il debug, avvia il programma, in modalità debugger, in questo caso, lo fa eseguire, no? Normalmente, fino a quando non incontro il primo breakpoint. Il breakpoint è il punto di interruzione, no? Nel quale, se si sospende l'esecuzione del programma, mi dice dove fermo, linea 9, ma mi evidenzia anche, mi fa vedere le variabili, e poi posso andare avanti un passo alla volta. Quindi, con questo step over, mi fa eseguire un'istruzione alla volta. Se io, invece, se fossi stufo di eseguire un'istruzione alla volta, e volessi far ripartire il programma, potrei usare il tasto, riprendi programma, questa frecciolina verde. Ok? Se invece voglio terminare il programma, schiaccio il quadrato rosso. Quando sono entrato, quindi, per entrare in debug, servono due cose. Uno, mettere un breakpoint, due, avviarlo, con il simbolo della coccinella, qua, dello scarafaggio, debug. Esiste un'altra modalità di debug, che funziona solamente nella versione, edu di PyCharm, che si chiama Vai passo passo, e praticamente, in automatico, lui si ferma alla prima istruzione. Però, anche essa funziona solamente, se ho messo almeno un breakpoint, altrimenti, stranamente, con un problema suo, non funziona. Ok? Se invece voglio eseguire il programma, solito triangolino verde, poi, dopo che l'ho aperto la prima volta, di solito, mi rimane qua, aperta la finestra, e mi rimane aperta la finestra del run. Alcuni di voi, si, dicono, ma, le istruzioni che hai messo, print s, print e, non ci servono più, cioè, le abbiamo usate, avete ragione, concordo, le abbiamo usate, per, convincerci, che il programma, stesse funzionando correttamente, per vedere cosa succedeva, ma poi, se diamo questo programma in mano a un utente, lui, S uguale, S, E, è uguale, che cosa sono? Fanno schifo, no? Non gli servono. E quindi, giustamente, sono stampe di debug, stampe di controllo, che ci fanno tanto comodo, quando stiamo sviluppando il programma, ma poi, una volta che il programma è finito, non servono più, allora, le possiamo tranquillamente eliminare, o meglio, commentare, quindi, nel momento in cui le trasformi in un commento, il Python non le vede più, non le esegue più, ma se tra un po', mi accorgessi che il programma, in qualche caso particolare, non funziona come dovrebbe, faccio in fretta a togliere il commento, e andare di nuovo a controllare, ok? Quindi, questi print sono un po' il debug dei poveri, che mi fanno vedere, in certi punti del programma, il valore di alcune variabili, non sempre, a volte è sufficiente, un po' di print ben piazzate, per capire come funziona il programma, a volte invece, non è sufficiente, dobbiamo proprio entrare in debug, e andare a analizzare un po' meglio, poi ovviamente, il debug è un strumento molto più potente, che non mi permette solamente, di fare passo passo, ma anche, diciamo così, fermarci con altre condizioni di errore più complicate, perché se il programma è molto lungo, andare passo passo diventa molto noioso, ma questo lo vedremo un pezzo per volta, ok, vediamo se ci sono ancora delle domande in sospeso, se avessimo, allora Christian ci chiede, se avessimo bisogno di più condizioni contemporanee, come possiamo fare, ok, questo lo vediamo tra un momento, quindi come costruire, delle condizioni più complesse, Sebastiano mi dice, come si fa a vedere dove viene salvato il file, ce l'abbiamo scritto qua sopra, vedi, quando hai creato il progetto, hai scelto, una cartella di progetto, e che ti rimane scritta, proprio a fianco del nome del progetto, e quindi tutti questi file che abbiamo creato, sono salvati all'interno di questa cartella di progetto, Antonio invece mi stravolge il programma, perché mi dice, ma se io volessi prendere in considerazione gli appuntamenti, ad esempio tipo 9.30, come posso fare? è un casino, è un casino perché la cosa semplice potrebbe essere, questi non li faccio int, ma li faccio float, e quindi a questo punto potrei scrivere effettivamente dei numeri con la virgola, ma 9.30 in realtà è 9.3, non è 9.5 che sarebbe 9.5 in qualche modo come orario, e quindi non è, leggere un orario come numero e floating point, sicuramente mi dà il valore sbagliato, Emanuele suggerisce, inserisci gli orari come 9.30, cioè 9.30, che va bene fino a un certo punto, nel senso che ad esempio inserire apro una console python, dire start1 uguale 900, scrivo a mano così, 9.30, e start2 a questo punto, start uguale 11.00, beh innanzitutto devo ricordarmi che devo sempre scrivere 11.00 e non 11 semplicemente, e quindi se controllo se start1 è maggiore di start2, è vero che start1 è maggiore di start2? Ecco in modo interattivo posso anche scrivere le condizioni senza una if davanti, e lui mi fa vedere vero o falso, me lo stampa, però se provassi a fare ad esempio start2, start2, meno start1, verrebbe fuori una schifezza, perché mi direbbe 170, che non è né 170 minuti, né un'ora e 70 minuti, ok? Quindi trucchetti di questo genere non ci portano lontano, se dovessimo effettivamente utilizzare il programma con ore e minuti, dovremmo complicare la parte di input, leggere una stringa, trovare dove è il due punti, separare le ore e i minuti, e magari convertire tutto in minuti, magari questo lo possiamo fare perché è interessante, datemi un attimo di tempo, che rispondo invece alle questioni più sostanziali, quindi andiamo un pochino avanti, e poi facciamo questa modifica, questa modifica nel programma, ok? Sui minuti, che effettivamente è interessante, che si concentra tutta nella gestione dell'input, dei dati di ingresso, e della conversione del dato di ingresso nel dato che mi serve, e così usiamo anche, diciamo così, le stringhe, dicevamo, noi abbiamo scritto questa istruzione if, e ci rimane in sospesa una domanda, no? La domanda è, ma cosa succede se ho più if che si combinano, oppure se ho delle condizioni complicate, con tanti maggiori e tanti minori, quindi adesso cerchiamo di approfondire questo. In generale, ciò che abbiamo costruito, è un esempio di quello che in Python si chiama istruzione composta, o compound statement, cioè un'istruzione che in realtà ne comprende tante altre al suo interno. abbiamo l'istruzione if che in realtà contiene al suo interno in pancia una serie di tante altre istruzioni, che vengono eseguite in un certo caso ovviamente, e poi un'istruzione else che comprende al suo interno altre istruzioni e così via. Quindi tutte queste sono, tutta questa if è una sola istruzione, ma dentro ne ha tante, per questo si chiama istruzione composta. L'istruzione composta ce ne sono 5 o 6 tipi in Python, if, while, try, def, ne vedremo, e funzionano tutte nello stesso modo. C'è il nome dell'istruzione, due punti, e poi il blocco di istruzioni annidate, rientrate, indentate al di sotto. Quindi il blocco di istruzioni inizia nella riga successiva, ma deve iniziare indentato, continua con tante istruzioni sempre indentate allo stesso livello, fino a quando non trova la prima istruzione che non è più indentata allo stesso livello, ma è indentata al livello dell'istruzione precedente. In questo si crea il blocco. Questo blocco è legato a questa istruzione if, oppure legato a questa istruzione else, oppure alle istruzioni composte, diciamo così, del linguaggio Python. Ricordiamo sempre i due punti, ovviamente, e ricordiamo che gli IDE in realtà ci facilitano già questo lavoro, perché non dobbiamo metterci lì a contare quattro spazi, ma quando battiamo l'invio dopo i due punti, automaticamente lui mi rientra il testo. Questa regola si può ripetere, come quasi tutto in informatica, quando c'è una regola la si può ripetere all'infinito, e un blocco composto può anche essere annidato all'interno di un altro blocco composto. qui c'è un esempio senza cercare di capire che cosa fa, ma guardiamo com'è strutturato. Qui c'è un'istruzione if, e ha un ramo vero fatto da queste tre istruzioni. Poi c'è un ramo else, un ramo falso, che viene eseguito se questa condizione dell'if fosse falsa, è composto da queste istruzioni. Notiamo che all'interno di queste istruzioni, la prima è un'insegnazione, dif uguale, eccetera, eccetera. La seconda istruzione di questo ramo else, a sua volta è un'istruzione if. Quindi questa istruzione if, a sua volta avrà un ramo vero e un ramo falso, quindi introdotto dalla parola chiave else. Tutto questa, queste quattro righe qua, if, dif, print, else, print, sono una istruzione composta che è annidata all'interno del ramo else di un'altra istruzione composta. Guardando i livelli di indentazione, queste righe azzurre che sono state disegnate, aggiunte qua alla figura, si capisce chi è dentro che cosa, quali sono, diciamo così, le istruzioni interne a quali altre. Quindi in pratica questa print verrà eseguita se questa condizione è vera, ma quell'altra condizione a monte era falsa. Se noi lo guardiamo nel nostro codice, se noi avessimo fatto una cosa di questo genere, se queste istruzioni qua fossero rientrate, indentate, io le selezioni e schiaccio il tasto tab, e me le indenta tutte, avremmo avuto, è sbagliato per questo esercizio chiaramente, un secondo if all'interno del primo. Se invece non è indentato, il secondo if viene dopo il primo. Quindi il primo si conclude e poi iniziamo un altro. Guardiamo il diagramma di flusso, nel nostro caso c'era una prima scelta che si concludeva, quindi si riuniva qua, e poi c'è una seconda scelta indipendente della prima che poi a sua volta si conclude. Se invece questo fosse rientrato, staremmo rappresentando un diagramma di flusso nel quale il secondo if, quindi tutta questa parte qua, sarebbe nel ramo falso, quindi sarebbe messa qua dopo lo start 2, nel ramo no, nel ramo falso, e prima della ricongiunzione. Quindi sono due cose molto diverse, dobbiamo avere idee ben chiare, se un'istituzione va fatta solo in un caso, nel caso vero o nel caso falso, allora la mettiamo rientrata. Se invece va fatta comunque e va fatta comunque dopo, la dobbiamo mettere non rientrata, uscire dall'indentazione dei blocchi. Questa è, diciamo così, della chiarezza mentale che dobbiamo avere noi, ma di sicuro l'interprete Python non si confonde, lui può gestire tanti livelli di annidamento quanti ne vogliamo noi. La regola è sempre la stessa, ogni volta che usa un'istituzione composta, e per ora conosciamo solamente if, else, questa termina con due punti e si aspetta di avere una o più righe indentate sottostanti. Quando il livello di indentazione diminuisce, allora vuol dire che ha finito quel blocco if, ha finito quel blocco else. E tutto questo può essere benissimo all'interno di un altro blocco if o di un altro blocco else. Se noi pensiamo in questo modo, questo modo di pensare ci vincola anche, diciamo così, nella costruzione dei diagrammi di flusso. Diagrammi di flusso che disegniamo a mano a volte sono più contorti rispetto a uno schema molto semplice di questo tipo, un blocco dentro un altro blocco dentro un altro blocco e ti viene da prendere l'output di un blocco e esportarlo da un'altra parte in un blocco separato. Ecco, programmi, diagrammi di flusso cosiddetti spaghetti-like che vanno avanti e indietro come gli spaghetti in un piatto non sono traducibili in Python ma in realtà nella maggior parte dei linguaggi di programmazione. Quindi, avere, diciamo così, conoscenza di questo meccanismo di annidamento dei vari blocchi ci aiuta anche a pensare i diagrammi di flusso già in modo strutturato. L'avranno chiamato strutturati senza dare una definizione precisa adesso lo stiamo capendo poco per volta, meglio. Vabbè, qui c'è un suggerimento che ci dice guarda che se per caso ti accorgi che nei vari rami di una scelta stai facendo le stesse cose quindi ad esempio nel ramo if stai facendo questa stampa ma anche nel ramo else stai facendo questa stampa allora potresti benissimo prendere la stampa una volta sola e portarla fuori dal ciclo. Abbiamo preso l'ultima istruzione del ramo if l'ultima istruzione del ramo else l'abbiamo tolte abbiamo messo un'istruzione sola dopo che il ramo else e il ramo else si sono ricongiunti e quindi viene eseguita in entrambi i casi come abbiamo già visto prima. questa la saltiamo nel senso che questa slide qui ci dice che esiste una forma abbreviata dell'istruzione if che può essere usata semplicemente se ci serve per calcolare un valore e non per fare altre istruzioni è semplicemente diciamo così una istruzione avanzata che non ci serve e ci confonde solamente. Ok e quindi abbiamo smarcato uno dei problemi come si combinano tra di loro varie if possono essere una dopo l'altra indipendenti oppure possono essere una dentro l'altra annidate Sul discorso e vengo anche alla domanda che l'altra domanda che è rimasta in sospesa e che Biacomo mi ha di nuovo fatto perché è impaziente cioè non l'ha fatta lui prima ma su come facciamo a costruire queste condizioni anche nel caso in cui siano condizioni complicate e non solamente un confronto semplice allora noi abbiamo visto gli operatori di confronto che sono questi sei ok maggiore e maggiore uguale minore e minore uguale uguale diverso funzionano con i numeri funzionano con le stringhe ok con i numeri chiaramente usano l'ordinamento numerico con le stringhe usano l'ordinamento alfabetico o meglio ancora si dice l'ordinamento lessicografico usando la tabella di fatto Unicode come se i numeri sono come se i caratteri fossero ordinati secondo la tabella con le codice ASCII più in generale le codice Unicode che abbiamo visto ieri quindi facciamo un po' attenzione maiuscole e minuscole non si ordinano come faremmo noi a mano lettere accentate apostrofi anche però vabbè questo è ciò che abbiamo qui le slide sono un pochino dettagliate ma ci fa vedere i vari esempi di uguale e diverso e l'uguaglianza di stringhe viene valutata appunto lessicograficamente carattere per carattere quindi se io ho queste due stringhe ad esempio lui va a controllare prima di tutto i primi due caratteri se sono uguali allora passa ai successivi e passa a vedere il secondo e così via se i primi fossero diversi automaticamente si accorge che le stringhe sono diverse quindi per verificare se le due stringhe sono uguali li prendo i primi due caratteri il primo carattere della prima il primo carattere della seconda li confronto se questi due primi caratteri sono diversi mi fermo sono diverse le stringhe fine ho finito se invece sono uguali non lo so potrebbero essere uguali se lo fossero anche i secondi se i secondi sono diversi allora le stringhe sono diverse se i secondi sono uguali allora passo a vedere i terzi caratteri e così via e anche piccole differenze come ad esempio una W maiuscola e una W minuscola ovviamente corrispondono ai codici Unicode diversi le due lettere sono diverse e quindi queste due stringhe sono considerate entrambe diverse qui ci sono alcuni esempi essenzialmente di queste espressioni facciamo attenzione nei confronti nei confronti di uguaglianza soprattutto sui numeri reali i numeri reali l'abbiamo detto dalla prima lezione sono numeri approssimati e quindi non potremo mai avere un valore esatto vediamo questo esempio 2.0 è un numero reale SQRT è la radice quadrata quindi R sarà la radice quadrata di 2 allora mi chiedo se radice di 2 per radice di 2 è uguale a 2 allora dirò che effettivamente la radice quadrata di 2 elevata al quadrato è 2.0 che matematicamente è la risposta giusta cioè la radice di 2 moltiplicata la radice di 2 che cosa fa? fa 2 matematicamente informaticamente no e infatti c'è un ramo else che mi dice guarda questo else viene eseguito quando? quando questo uguale è falso quindi quando il quadrato della radice di 2 non fa 2 e infatti mi dice che la radice di 2 al quadrato non è 2 ma quasi gli somiglia ma non è esattamente 2 quindi dobbiamo aspettarci che il risultato di qualunque tipo di calcolo aritmetico fatto su numeri floating point possa avere un piccolo margine di errore il che vuol dire che l'uguaglianza stretta l'identità non dobbiamo mai applicarla se i numeri sono numeri in floating point sugli interi va benissimo perché l'intero o è 1 o è 2 o è 3 su un reale 1.0002 può essere anche un'approssimazione valida rispetto al valore 1 Massimiliano mi chiede ma perché ci sono perché il riciduo è un numero irrazionale purtroppo no ci sono anche dei numeri razionali tipo un decimo 0,1 che non è rappresentabile in modo esatto all'interno del computer o un terzo un terzo siamo abituati che in decimale non lo possiamo rappresentare in modo esatto perché è periodico ecco ci sono molti numeri che in realtà anche con la rappresentazione binaria in base 2 che usa il calcolatore non sono rappresentabili in modo esatto e quindi anche numeri razionali cioè frazioni non sono rappresentabili esattamente nel calcolatore non è solo colpa degli irrazionali è colpa in generale dei numeri frazionali poiché il calcolatore calcola il binario qualunque cosa non sia cioè non abbia un'espansione finita in base 2 sarà rappresentato con un certo errore infatti 0 1 non è una frazione diciamo così limitata non è un'espansione limitata in base 2 ok quindi come facciamo a venire in conto a questo problema se io devo confrontare due numeri reali cioè x e y non potrò mai chiedermi ma x è uguale a y ma mi chiederò invece la differenza tra x e y è più piccola di un certo margine di errore che ritengo accettabile un epsilon e quindi l'istruzione di prima andrebbe riscritta in questo modo se r al quadrato meno 2.0 in valore assoluto è minore di una tolleranza che io accetti allora a questo punto li considero uguali non saprò mai se sono uguali li considero uguali se sono all'interno di una certa tolleranza di meglio non posso fare esiste una funzione questa slide forse l'ho aggiunta di recente quindi chi ha scaricato le slide un po' prima non ce l'ha ma non è difficile c'è una funzione nella libreria math che fa proprio questo lavoro per noi si chiama is close vuol dire sono vicini non vuol dire chiuso sono vicini questo numero è vicino a un altro allora quella funzione is close riceve due parametri il primo r quadro il secondo 2.0 e mi dice se questi due numeri sono simili sono vicini questa è una funzione che restituisce un valore vero o falso è la prima funzione di questo tipo che conosciamo una funzione che mi dice sì o no è come fosse un operatore di confronto come fosse il maggiore come fosse il minore come fosse un operatore di confronto che mi dice solo che anziché col simbolo maggiore l'abbiamo espresso sotto forma di funzione ok se questa funzione mi restituisce vero vuol dire che questi due numeri sono abbastanza vicini se questa funzione mi restituisce falso vuol dire che questi due numeri non sono abbastanza vicini abbastanza vicini ma sulla base di che cosa ecco sulla base di una tolleranza relativa o di una tolleranza assoluta che posso impostare quindi posso decidere io e quando farete fisica vi faranno una testa così le prime lezioni se dovete considerare un errore assoluto oppure un errore relativo questa funzione isclosa in grado di gestirli entrambi nel senso che ha due parametri aggiuntivi chiaramente i due primi parametri a e b sono i valori che devo confrontare e poi altri due parametri aggiuntivi opzionali in quanto opzionali devo chiamarli per nome poi faccio un esempio che sono tolleranza relativa e tolleranza assoluta errore relativo errore assoluto se io specifico l'errore relativo lui farà un confronto sulla base dell'errore relativo 0,1% se specifico la tolleranza assoluta ovviamente farà il confronto sulla base dell'epsilon assoluto semplicemente della differenza in valore assoluto per default per default il valore di div cioè se non specifico questi valori né uno né l'altro lui considera una tolleranza relativa di 10 alla meno 9 ok quindi se le prime 9 cifre dopo la virgola sono uguali allora considera uguali i numeri ok e quindi vediamola al lavoro quindi io prendo qua nella console devo ovviamente importare la libreria mat e mi chiedo mat punto is close 1 e 1,5 mi dirà di no ovviamente se però ci metto davanti un po' di zeri vedete che lui mi dice ah ma si sta roba qua in realtà 1 e 1,5 sono abbastanza vicini da essere considerati uguali vediamo quando è che comincia a diventare vero è proprio lo azzeccato giusto il numero di zeri vedete falso ancora metto ancora 1 vero quindi in questo caso contiamo di zeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e quindi l'errore la differenza è minore di 10 alla meno 9 su 1 ok quindi a questo punto se abbiamo due numeri di questo genere potremmo chiederci non se a uguale b che è uguale uguale b che invece abbiamo detto che è a rischio in questo quadro lo sostituiremo con mat.isclose di a,b quindi operativamente cosa succede che il numero a 1 il numero b 1,005 la funzione isclose li analizza e restituisce vero o falso a seconda che siano vicini oppure no l'if capisce questo valore vero o questo valore falso l'if capisce il valore vero e il valore falso e quindi prenderà il ramo if o il ramo else a seconda dei due casi ok in realtà questo succede anche con i numeri questo true e false succedono anche ad esempio con gli operatori normali quando noi scriviamo un'espressione con gli operatori di confronto questa espressione viene calcolata e ha un valore che può essere true o false vero o falso questi valori true o false sono quelli che ci serviranno per poter combinare tra di loro espressioni più complicate con gli operatori booleani che vediamo tra un secondo se io specifico ovviamente per specificare l'errore io posso specificare abbiamo detto la tolleranza assoluta per me la tolleranza assoluta deve essere di 0,3 no 0,01 ad esempio un centesimo allora in questo caso sono vicini ma con una tolleranza assoluta di un centesimo io posso li considero vicini anche se differiscono di 5 millesimi vedete tra 1 e 1,005 che prima sicuramente mi diceva che erano diversi in questo caso ho detto no ma a me basta una tolleranza di un centesimo e infatti questi due me li considera la tolleranza assoluta me li considera diciamo così abbastanza vicini se io invece passassi a 5 centesimi con la tolleranza assoluta di un centesimo mi dirà che è falso Alessandro mi chiede ma è sia un specifico sia l'errore allora abbiamo visto una cosa nuova abbiamo spassato un parametro in più opzionale a una funzione e poiché è un parametro opzionale perché la funzione capisca qual è il parametro che gli abbiamo passato l'abbiamo dovuto chiamare per nome quindi normalmente il primo parametro non ha bisogno di avere un nome il secondo neanche quelli opzionali invece vanno chiamati per nome con il nome del parametro uguale al valore quindi una sintesi in più per funzioni che hanno dei parametri opzionali vedremo che anche la print si comporta così in alcuni casi è un modo perché python non ci obbliga ogni volta a fornire tutti i parametri ci obbliga solamente a fornire quelli essenziali e poi se ne vogliamo degli altri che magari si servono in alcuni casi lo possiamo fare ma chiaramente li dobbiamo poi chiamare per nome altrimenti lui non saprebbe come usarli Alessandro diceva ma cosa succede se è specifico sia l'errore assoluto che l'errore relativo c'è scritto qua questa è la formula che ho preso dalla documentazione della funzione isclose che mi dà il caso generale ok quindi in questo caso lui va a li considera simili abbastanza simili se la loro differenza del valore assoluto è minore sia del massimo tra due espressioni quindi è minore o del valore assoluto oppure del dell'errore relativo moltiplicato per il massimo tra i due numeri quindi di fatto lui calcola il meno detto in parole povere il meno restrittivo tra i due quella bella espressione con i due max sarebbe carino da fare un esercizio di analisi ok ma detto in parole povere usa il meno la meno restrittiva tra le due condizioni l'app stall di default è 0 come c'è scritto qua sotto no non c'è scritto però sì di default è 0 chiaramente deve essere un valore positivo ok quindi di default lui lavora con la precisione relativa di 10 alla meno 9 tutto il resto lo posso cambiare cambiando o la precisione relativa o la precisione assoluta Matteo mi dice se usiamo dei numeri alla fine è meglio utilizzare gli sclose ti correggo la frase se usiamo dei numeri in floating point dei numeri frazionari è meglio utilizzare sempre gli sclose e dimentichiamoci uguale e diverso per i numeri reali ovviamente possiamo usare gli sclose oppure possiamo farci il lavoro a mano ecco questa cosa qua della differenza questa qua di fatto altro non è che la sclose con solamente l'errore assoluto che vale epsilon ok Cesare mi chiede se un numero molto più grande di uno come per esempio un milione viene considerato vicino ci devono essere comunque allora Cesare ovviamente nel caso di un errore assoluto allora lui mi chiede se noi abbiamo ad esempio di un milione e un milione uno sono abbastanza vicini o no in questo quadro dice che non sono abbastanza vicini perché ho un errore relativo di dieci alla meno nove però se io aggiungessi altri tre zeri e quindi a questo punto dieci alla meno dovrebbero essere veri ecco li considero in questo caso un miliardo e un miliardo e uno differiscono in modo relativo di una parte su un miliardo cioè dieci alla meno nove che è proprio la precisione di default relativa che mi dà l'isclose ma anche un milione e un milione e uno se io decidesse che la mia precisione assoluta scusa relativa a relative toll uguale non dieci alla meno nove ma semplicemente dieci alla meno quattro ad esempio uno e meno quattro posso anche scrivere 0.0001 chiaramente mi dirà invece che un milione e un milione e uno sono simili a meno di una precisione relativa di dieci alla meno quattro quindi semplicemente lui prende la differenza tra i due la divide per il più grande dei due e va a vedere se è maggiore o minore di questa precisione relativa se io la ragionassi per precisione assoluta allora potrei dire che un milione un milione e uno sono uguali ad esempio con una precisione assoluta di 10 di 10 unità non 10% oppure anche solo di uno sono uguali quindi praticamente cosa facciamo quando dobbiamo confrontare due numeri reali senza andare probabilmente a fossilizzarci troppo sulla precisione relativa assoluta che poi in alcuni esercizi magari è specificata ma normalmente normalmente basterà scrivere if mat.isclose a virgola b dove a e b sono due numeri reali e allora ricordiamoci che questo diciamo così oh pardon mat.isclose a virgola b è il modo corretto mentre invece if a uguale uguale b lo scrivo qua if a uguale uguale b se a e b sono string va benissimo se a e b sono numeri interi va benissimo se sono numeri reali a uguale uguale b oppure diverso non ha non ha significato proprio perché si mangia gli arrotondamenti gli arrotondamenti fanno sì che l'uguaglianza vera non ci sia praticamente mai ok quindi come regola generale se confronto due numeri reali uso isclose e non uso l'uguale proprio sunto dei sunti della discussione la differenza tra precisione assoluta e precisione relativa è che la precisione assoluta è a meno b minore di epsilon quindi la differenza tra i due valori è minore di un certo valore soglia la precisione relativa è a meno b fratto a o fratto b fratto più grande dei due quindi va a calcolare la differenza in relazione diviso il valore dei numeri quindi ad esempio qua abbiamo un milione un milione uno differiscono in termini assoluti di uno in termini relativi di uno fratto un milione quindi dieci alla meno sei ok ma come vi dicevo appunto nel prossimo semestre quando farete fisica vi faranno sputare sangue su queste cose qua ma chi ha già fatto fisica da uno dei superiori un pochino l'ha già assaggiato Savio mi chiede si posa la funzione round sì ma dipende se ti vuoi incasinare la vita forse sì nel senso che qua che round ho perché sono due numeri interi a che cosa gli arrotondo dovrei arrotondarli alla decina o al centinaio e anche questi altri gli arrotondo a quanto a quante cifre ci male a 6 7 o 5 va bene se sono unità ma se io avessi già un numero come 5320 virgola 0007 quando arrotondo non so se contare anche le cifre decimali che stanno prima o dopo la virgola quindi sicuramente si può giocare anche con round ma se sto cercando di sostituire un'uguaglianza is close è fatta apposta poi come sempre in informatica ci sono sempre mille modi di fare qualunque cosa Samuel mi chiede se è possibile definire la tolleranza una volta per tutte non che io sappia nella documentazione di is close non c'è un modo di dire senti adesso prenditi la tolleranza relativa di 10 1 4 e usa sempre questa puoi e lo impareremo da due settimane definiti una tua funzione che chiama is close passandogli la tolleranza che vuoi tu sono tre righe di codice ok purtroppo i numeri reali danno sempre problemi le string danno meno problemi abbiamo detto che possiamo tranquillamente confrontarle con maggiore e minore e l'ordine di confronto è l'ordine come dicevamo lessicografico che si basa sui codici numerici unicode che non sempre è intuitivo qui questa slide mi sta dicendo di non preoccuparmi se nell'operazione di confronto devo fare dei calcoli ok questa poiché stiamo mescolando tra di loro un operatore che potrebbe essere l'addizione e un operatore che è un confronto potrebbe venirci la domanda e chiederci ma allora viene fatto prima questa operazione e poi il risultato più 1 oppure viene fatta prima la somma e poi il confronto ecco la precedenza degli operatori è fatta in modo che l'operatore di confronto abbia una precedenza molto bassa e quindi prima vengono fatti tutti i calcoli a sinistra poi vengono fatti tutti i calcoli a destra e infine viene fatto il confronto che è la cosa normale naturale ok nel dubbio se uno ha un dubbio sull'ordine con cui vengono fatte le operazioni sante parentesi tonde metti un paio di parentesi e ti togli ogni problema andiamo avanti allora ancora un paio di punti perché dobbiamo riuscire a risolvere il problema che ci eravamo dati all'inizio che era quello degli orari allora sulle if annidati in qualche modo l'abbiamo già visto come vedete io spesso non seguo le slide perché molto spesso mi trovo meglio ad articolare insieme a voi un esempio e a seguirlo poi sulle slide vediamo insieme ve li trovate diciamo così come spiegazione più sequenziale ma gli stessi argomenti chiaramente sono ripresi noi l'abbiamo già visto prima cosa succede quando abbiamo una condizione come questo if che inizia qui finisce qui ma al suo interno in uno di due rami in particolare nel ramo vero a sua volta contiene una sottocondizione e abbiamo già imparato che questo si fa semplicemente annidando bene adesso questo else non è incolonato bene devo ricordarmi di correggerlo perché questo else lilla dovrebbe essere incolonato sotto questo if ma l'importante è che questo if else sia indentato all'interno dell'if else esterno che è rosso ma questo l'abbiamo già visto no quello a cui volevo arrivare era parlarvi poi facciamo queste cose ecco quando abbiamo più una delle domande in sospeso era cosa faccio se ho più di due alternative l'altra domanda in sospeso era cosa faccio se ho delle condizioni complesse eravamo partiti dicendo l'if può scegliere solamente tra due voci e se io devo scegliere ad esempio tra quattro valori diversi tra quattro voci diverse e beh devo costruirmi una catena di if che valuti le quattro possibilità diverse ad esempio fatte in questo modo io posso avere il primo confronto se è vero faccio una certa cosa altrimenti farò un secondo confronto se è vero faccio una certa cosa altrimenti farò un terzo confronto se è vero faccio una certa cosa e così via e ciascuna di queste sarà un'istruzione if diversa e ciascuna di queste per come è disegnata qua sarà nel ramo else della precedente quindi se io scrivessi questo se volessi tradurre questo diagramma di flusso che troviamo qua nella slide in python fatemelo fare su un file separato solo come esempio questo lo chiamiamo Richter che per dire perché parla di Richter lui legge un valore uguale input è un float input di Richter tanto per avere un valore e poi cosa mi dice mi dice se questo Richter è maggiore o uguale a 0 stampa questo ok quindi if questa è facile Richter non Richter maggiore o uguale a 0 maggiore o uguale a 0.0 scrivo 0.0 così mi ricordo che questo è il numero floating point no? due punti stampa la maggior parte degli edifici cade cadono tutti fatemelo riassumere così altrimenti altrimenti cosa succede? altrimenti ricado sì 8.0 grazie ricado nel ramo falso e in questo ramo falso avrò tutta questa parte qui tutta questa parte qua di codice cioè se guardate da questo punto fino a questo punto qua in fondo tutto questo diagramma fa parte del ramo falso della prima if quindi questo era un 8.0 quindi qua c'è tutto il resto c'è tutto ciò che succede quando non è vero che Richter è maggiore di 8 allora potrebbe essere ad esempio maggiore la seconda if mi chiedeva se era maggiore di 7.0 punto 0 allora in questo caso stamperò il valore come dice molti edifici cadono distrutti quindi cadono molti sto banalizzando altrimenti altrimenti ricado qua allora molti edifici vengono distrutti altrimenti altrimenti ho quest'altra parte di programma quindi tutto questo blocco da qui a qui quindi tutta questa parte qua è nel ramo falso di questa if e quindi ogni volta indentiamo sempre un pezzettino andiamo sempre più a rientrare if Richter Richter maggiore o uguale c'è un 6.0 se non sbaglio sì dirò print che ah esattate due punti ho dimenticato due punti print dirò che sono molti danneggiati altrimenti e qui abbiamo capito non il meccanismo oramai il ramo falso di questo if contiene questo blocco qui questi 4 blocchi 3 blocchi in cui c'è ancora un'altra if che distingue se è maggiore o no di 4.5 quindi if Richter maggiore o uguale 4.5 allora dirò che sono danni edifici oppure nessun danno print danni alle catapecchie oppure stamperò else due punti maledizione print nessun danno quindi all'inizio è un po' strano perché ogni volta questo codice rientra sempre di più in realtà in questo caso non c'è più nulla da fare però se io volessi potrei ancora continuare ad esempio se mettessi un'istruzione qua quando viene eseguita secondo voi questa istruzione qua alla riga 16 è indentata rispetto al ramo else che c'è alla riga 8 quindi viene eseguita nel ramo falso del Richter maggiore di 7 non del 6 ma del 7 perché vedete che questa istruzione sulla riga 9 quella di confronto con il 6 ha questo ramo vero e questo ramo falso perché è rientrato rispetto al suo else questo print essendo allineato rispetto a questo else e allineato rispetto a questa if vuol dire che avviene dopo la conclusione di tutto questo if e quindi infatti il ramo else che c'è sulla riga 8 comprende due istruzioni il compound c'è l'istruzione composta che va dalla 9 alla 15 e l'istruzione print che è sulla riga 16 quindi bisogna essere ordinati tra l'altro non so se si vedono nella videochiamata ma PyCharm ci fa vedere delle linee grigioline che ci aiutano a tracciare la distanza tra l'altro esistono anche questi pipiolini qua che possono essere premuti o non premuti per mostrare o nascondere alcune parti e quindi in qualche modo ci aiutano anche un pochino a collassare espandere e capire meglio che cosa facciamo è chiaro che se io vado a indentare più di 3-4 livelli dopo un po' mi perdo mi perdo io il programmatore Python mica si perde lui non ha problemi ad andare avanti anche di 40 livelli e quindi poi dovremmo in qualche modo inventare dei metodi per riuscire a a parcializzare se Emanuele mi dice ma il float input se mi si è inserito 6,88 non darebbe errore no perché mai 6,88 viene letto come stringa convertito in float e quindi 6,88 ricadrebbe qua maggiore di 6 ma non maggiore di 7 poi se non ci credi lo proviamo 6,88 ops devo scrivere sempre mi dimentico sempre di cliccare qua sotto cosa è successo stop via via 6,88 molti danneggiati ci sarebbe problemi se mi si è inserito un valore intero no no perché un valore intero può sempre essere convertito in automatico in un valore reale quindi se io scrivo 6 e dai dove l'ho scritto 6 mi scrive molti danneggiati perché viene convertito in 6.0 ricordiamoci che questo float qua prenderà la stringa 6 e la legge come se fosse un numero reale visto che trovo un numero intero lo converto in reale e poi lo usa normalmente quindi non è un problema il problema potrebbe essere il contrario se inserisco un float dove invece mi aspetto un intero allora lì mi da errore perché quando trovo il punto abbiamo visto ieri genera un'eccezione quindi possiamo onnidare tranquillamente le condizioni anche a più livelli basta che noi non ci perdiamo in costrutti di questo genere per fortuna esiste una parola chiave in python che si chiama elif che non è il nome di un elfo ma è semplicemente la contrazione di else più if allora in questo caso lo stesso codice di prima si potrebbe scrivere così anziché scrivere else due punti a capo if posso scrivere semplicemente elif allo stesso livello di indentazione quindi questo è un trucco per avere un'istruzione if con più di due rami normalmente l'if ha due rami il ramo vero e il ramo falso l'if e l'else tra l'if e l'else possiamo introdurre delle clausole intermedie else if else if else if che fanno parte dello stesso compound della stessa istruzione e quindi non devono necessariamente rientrare per avere un'istruzione dentro un'altra dentro un'altra è una ramificazione aggiuntiva della stessa istruzione if non cambia molto non cambia nulla la logica di questo è esattamente la stessa questa condizione viene valutata se la prima è falsa c'è un pezzo di else qua el sta per else quindi viene valutata solamente se quella prima è falsa e if e questa seconda è vera el if se quelle precedenti sono tutte false if e questa è vera faccio questa parte se tutte le precedenti sono false e questa è vera faccio questa parte se tutte le precedenti sono false arrivo l'else tradizionale stampo print ovviamente questo è l'if e l'if ovviamente apre un nuovo blocco e quindi ci vorrà i due punti al termine dell'istruzione dell'if e l'indentazione dell'istruzione successive non cambia nulla ok questo codice e questo codice che abbiamo scritto sono da parte della printx sono assolutamente equivalenti al 100% non vi ricordate l'if fate tranquillamente con gli if annidati avete delle condizioni un pochino più complicate di annidamenti un pochino più complicati vabbè l'istruzione di annidare la soluzione di annidare l'if funziona sempre se invece avete un caso semplice in cui avete una serie di test incascate da fare l'uno dopo l'altro anche questo costrutto ha l'unico vantaggio che evitate di indentare troppo il codice ok l'if si usa solo se le presenti sono false è chiaro allora è esattamente la stessa cosa di prima io in questo else in questo if entro solamente se sono entrato in questo else e prima ero entrato in questo else quindi ogni blocco in questo caso viene eseguito solamente se tutti i blocchi precedenti tutti i controlli precedenti le condizioni precedenti fossero tutte false quindi questa stessa cosa noi guardate per maggiore evidenza faccio copia e incolla e anziché else if scrivo semplicemente elif mi cancello qua e tolgo l'indentazione tolgo l'indentazione elif tolgo l'indentazione sto facendo esattamente la stessa cosa di prima elif else questo è esattamente lo stesso identico codice di prima no Niccolò mi chiede non si potrebbe usare la funzione if e basta al posto di elif è quello che abbiamo fatto prima però la funzione if poiché non la posso allora proviamo a seguire questa domanda perché è interessante se io scrivessi questo cosa succederebbe e questo codice sarebbe errato perché pensate al caso in cui Richter vale 8 ok allora arrivo qua Richter maggiore o uguale 8 sì allora stampo questo poi mi chiedo se Richter è maggiore di 7 e sì vale 8 quindi è maggiore di 7 allora stampo anche questo poi mi chiedo se Richter è maggiore di 6 sì perché vale 8 e quindi stampo anche questo vedete che li stamperei tutti io invece devo fare attenzione che se ho stampato il primo gli altri non li devo più stampare per questo c'è l'elif oppure c'è l'else queste condizioni non sono condizioni disgiunte tra di loro sono condizioni che in realtà una è sotto insieme dell'altra se la prima è verificata visto che sono delle disuguaglianze anche le altre saranno verificate io qua ho detto dopo testo questo perché giustamente visto che questa if è allineata alla stessa colonna di questa if prima eseguo questa if poi si ricongiungono i due rami l'if l'else e l'else non c'è ovviamente in questo caso non devo fare nulla nell'else e poi dopo farò l'if successiva indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia fatto quella precedente quindi questo invece è una cosa diversa questo qui invece è sbagliato errore se vengono eseguiti più rami non uno solo poi ci sono dei casi in cui vogliamo eseguire più rami in questo caso no quindi attenzione non è un errore sempre è un errore in questo caso è un errore logico assolutamente è un errore non è un errore di sintassi perché la sintassi è perfetta cade giù benissimo adesso non lo eseguo perché se no mi fa tre volte la stessa cosa e non ci capisco più niente ma posso anche eseguirlo lo eseguiamo col valore di 8 che va messo sempre sotto vedete che la prima volta scrivono cadono tutti che è il primo blocco di testo che abbiamo fatto quello con gli if and i dati il secondo con gli elif me lo stampa qua il terzo che era quello sbagliato mi stampa tutti i messaggi ok è sbagliato il programma è corretto fa ciò che gli abbiamo detto semplicemente fa una schifezza perché gli abbiamo detto una schifezza rispondo al volo a Massimiliano lo switch in python mi pare che non esista si può simulare con una catena di elif se uno vuole in python è un pochino più antipatico perché devo ogni volta mettere la variabile di confronto però è anche più versatile perché a questo punto posso mettere la condizione che voglio non hanno valutato opportuno inserire la switch ok carne al fuoco ne abbiamo dobbiamo ancora mettere un paio di braciole al fuoco che sono no ci siamo dati il compito di dire adesso vogliamo fare qualcosa di più complicato l'altra domanda che abbiamo in sospeso io non me la sono dimenticata ma come faccio ad avere condizioni più complicate se io volessi dire se Richter è maggiore di 7 e minore di 4 è compreso in un certo intervallo oppure se un numero è pari e l'altro è dispari come faccio beh dovrei imparare a combinare tra di loro più condizioni diverse all'interno della stessa if adesso ho tante if le so combinare a nidare tra di loro e devo solo semplicemente non perdere l'orientamento ma ciascuna di queste per ora siamo stati capaci solamente da usare una condizione molto semplice quindi dobbiamo imparare a fare le condizioni più complicate e poi dobbiamo tornare indietro a rimettere a posto le ore e i minuti del nostro esercizio sugli appuntamenti però vista l'ora direi che è un lavoro che possiamo fare dopo l'intervallo quindi se non ci sono domande urgenti che non vi permettono di prendere un caffè se non avete la risposta su questa parte su questi esercizi io proporrei di fare una solita pausa di 15 minuti quindi ci rivediamo alle 11.50 e cerchiamo di completare diciamo così la conoscenza che ci manca sulle istituzioni condizionali in modo da poter a questo punto essere diciamo così pronti anche a programmi più complessi e più articolati come ad esempio gli altri flowchart che c'erano in quella giornata ad esempio c'era uno che se non sbaglio era adesso scusatemi lo prendo solo al volo questo qui delle stagioni era anche parecchio più complicato e quindi ci sono delle condizioni più complicate che le abbiamo scritte divisibili del giorno mese eccetera e quindi questo adesso avremmo ancora qualche difficoltà a farlo ma tra un'oretta non più allora ci vediamo alle 11.50 a dopo